Rete, 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 ha pareggiato la Juventus, tutto regolare, ragazzi, 2-1 anzi ha pareggiato, passa in vantaggio la Juventus, Paperone di consigli, che dopo aver preso anche le madonne, come ad esempio il gol di Morata, passa sotto le gambe di consigli, gol di Kane e fa 2-1 Juve, ragazzi, incredibile, arriva il gol in live e una Juve che oggettivamente non mi è piaciuta, cioè dipende, troppo il costante per quanto mi riguarda, il primo tempo era iniziato, i primi 5 minuti perfetti, offensivi al punto giusto, poi da lì fino alla, praticamente dopo il gol del Sassuolo, meritatissimo di Raspadori, ha fatto un gol bellissimo, forse io do più colpi alla difesa che a Shesley, che Shesley mi vuole assolutamente proteggere il suo palo, ma do colpi alla difesa perché mi hanno fatto schifo in quell'azione, ma a me onestamente ha fatto proprio schifo la difesa Bonucci-Rugani, io penso ragazzi che sia veramente giunta l'ora di accantonare Bonucci-Chiellini, ma prima di tutto vi saluto ciao perché siamo già un minuto e mezzo di video, non mi ricordo se ho salutato, nel caso vi risaluto, buona festa della Repubblica, infatti festa della Repubblica c'è solo un video perché oggettivamente festa della Repubblica è festa pure per noi, quindi oggi grigliata, che non si fa Pasquetta ma si fa il giorno della Repubblica, un po' di birra, che io ovviamente l'ho bevuta, grazie a cazzo, sono minorenne, intanto qua ripartenza Ken, Ken all'alto del pallone per De Sciglio, De Sciglio ragazzi, io l'ho sempre reputato un giocatore, non dico mediocre, leggermente meglio di mediocre, che non è un fenomeno allegro, lo penso come un fenomeno, quanto ha fatto schifo oggi, veramente, non è peggiori prestazioni, da una parte sarei anche contento perché ormai è da un bel po' di gare che fa prestazioni di merda De Sciglio, dovrei da un lato essere contento però che Allegri dà fiducia anche ai giocatori che non sono proprio in gran forma, dall'altra parte mi devo ricordare che De Sciglio e De Sciglio avrà fiducia anche quando non avrà una gamba, avrà la fiducia di Max, intanto qua riparte Ken, pallone troppo lungo di Miretti, che è entrato 5 minuti fa neanche, veramente questa Juve è un po' strana, poi arriva il gol, come ha detto prima i raspatori, arriva poi il gol di Dybala che ha fatto una pessima partita per quanto mi riguarda, poi si è acceso un attimo, ha fatto quel gol e poi basta, non ha fatto più niente, attenzione qua, mamma mia, mamma mia, sembra ci potesse essere una mano, comunque stavo dicendo la difesa che secondo me va accantonata perché Rugani non è un titolare, deve essere il quarto barra quinto difensore per gerarchie nella Juve, Bonucci non lo so ragazzi, secondo me ora come ora deve essere, non è importantissimo nella squadra, cioè io lo terrì come quarto, mettendo Rugani come quinto, ma lo terrì principalmente perché, perché è un uomo da spogliatoio, poi possiamo tenere Chiellini, tanto vale, Chiellini è sempre un'arma in più, De Ligt titolare è un altro che la affianchi, che può essere Demiral, come può essere qualcun altro, solo che Demiral, ragazzi, ha un problema, non riscaterà l'Atalanta, suppongo, sono 30 milioni che vengono a casa e quindi sono bei soldi, ma il problema è che è spesso rotto e quindi quello è un suo problema, il difensore non lo so quale sarebbe il difensore ideale perché oggettivamente non ne ho idea, a Rudiger sembrava potesse venire e sarebbe secondo me l'ideale, però non si dice che stia andando a Real Madrid, Tuchel ha confermato che non rimarrà a Chelsea e quindi non è più un obiettivo praticamente della Juve, visto che sta andando anche lui, stessa cosa di Alaba, a Real Madrid. Qua fanno i 12 su Can, questa Juve che oggettivamente è strana, nel secondo tempo meglio rispetto al primo, hanno lasciato meno manovra offensiva al Sassuolo, ma oggettivamente la difesa pregiori in campo, veramente, la difesa Juve è da zero per quanto vi riguarda, assolutamente da due, da tre, essendo generosi, qua rinvio lungo i scelti a cercare Vlaovic che quando è entrato non mi è piaciuto, non è stato letale come voglio io, un attaccante di peso e di 70 milioni come Vlaovic, anzi praticamente 80 milioni, non mi ricordo bene la cifra ma era più o meno 80 milioni e Vlaovic per essere paghetto 80 milioni deve essere più decisivo, ad esempio contro la Fiorentina possiamo dire che ha avuto tutti i palloni, li ha giocati bene, non ha avuto tanti palloni e per quelli che ha avuto li ha giocati bene, ecco questa volta neanche questo, ma non ha avuto tanti palloni, non si è proposto tanto e non li ha giocati neanche bene, però qua cerca di lanciare Ken, c'è stato anche un gol di Morata, praticamente aveva fatto gol a 7 metri, letteralmente era così che in tempo mezzo secondo diventa, si ricorda Pegolo, si ricorda il mitico Pegolo in Coppa Italia e diventa di nuovo Gesù, prende un pallone ragazzi impossibile da prendere, e attenzione qua Chiriacopoulos cross in mezzo allontanato da Leo, si riparte adesso con Ken, Rabio deve spazzarla, finisce qua 2-1 Juventus che non dico che mette in cassaforte la Champions League, ma comunque tre punti importantissimi in chiave Champions perché se non sbaglio la Roma è 57, mentre invece la Juventus ora è a 66, se non vado errato, quindi 57-66, siamo alla 34esima giornata, ne mancano 35-36, 37-38, si potrebbe già avere l'aritmetica vincendo la prossima, anche se la Roma ovesse vincere, poi potrebbe pareggiarci volendo nelle ultime tre gare, ma vi ricordo che abbiamo gli scontri retti a nostro favore, a favore a Juve, comunque la Juve che praticamente conquista l'accesso mirato alla Champions League, un pareggio ragazzi non è che potesse andare male, non penso che sei stato assolutamente contento, però non avrei magari fatto un video sfogo in cui spaccavo tutto, fatto sta che alla fine si conclude come detto prima sul 3-0, sul 3-0, sono un po' griaco ragazzi, 2-1, che alla fine tre punti ideali, ecco ciò che volevo dire, tre punti ideali, ah no, la Roma è 58, quindi bisognerebbe vincere le prossime due, per avere l'aritmetica, comunque non mi preoccupa più di tanto ormai la qualificazione di Champions, se secondo me potrebbe essere per dare quel senso di più alla stagione, magari al posto che era Verci il quarto posto postettino per la Champions League, andare magari a prendere il Napoli, mettergli un minimo di pressione, la prossima gara la Juventus la giocherà contro il Venezia alle 12.30, quindi pure in un orario, ma non dico di merda, però non è di certo bellissimo, e poi quella dopo sarà contro Genoa, oggettivamente non sfida impossibile, ma ora come ora, più che concentrarmi sul campionato, ad esempio col Genoa, praticamente abbiamo la Champions in mano, quindi io farei un turnover, oggettivamente, Genoa-Juve turnover, perché? Perché poi ci sarebbe la finale di Coppa Italia, ci sarà la finale di Coppa Italia, se non sbaglio, o il martedì o il mercoledì, quindi è importante avere i giocatori preparati per quella partita, comunque io signori vi lascio, noi ci vediamo domani con tre nuovi video, ci vediamo, ciao!